... Papa ho visto che ci hanno fatto? Che ci hanno fatto? Una maccatura. Che ci vuoi fare? Magari c'era? No, non c'era, questa è una botta che gli hanno dato. Chi sa come le tengono, io gli avrei detto. Mi cari pagno i riparazioni. Mante vuoi stracci? Si, mi sto zitto. Io gli avrei detto. È pronto il berretto, Marie? Sì